Anticipazioni Endless Love, puntate turche. Nian scopre che Leila è sua zia. Endless Love prosegue e, nel corso delle puntate turche della SOP, emergerà uno scuro segreto riguardante la famiglia di Nian. Infatti, la ragazza verrà a sapere che Leila, l'amica di sempre di Kemal, in realtà altri non è che sua zia, sorella della madre Vilden. La scoperta lascerà Nian senza parole. Anticipazioni Endless Love, puntate turche. Nian scopre che Vilden e Leila sono sorelle. Nel corso delle prime puntate di Endless Love, i telespettatori hanno già avuto modo di conoscere Leila. Quest'ultima è una cara amica di Kemal e ci tiene molto al suo bene. La cosa è destinata a diventare sempre più evidente anche nel corso delle prossime puntate, quando è proprio Leila a combinare un incontro tra Kemal e Nian perché possano chiarirsi e perché lei possa rivelare che il matrimonio con Emir aveva costituito per lei un obbligo. Nel corso delle puntate turche, però, il rapporto tra Leila e Nian diventa pieno di interrogativi. Nian si sente molto legata alla donna ma tutto cambia quando, guardando nelle foto di famiglia, la vede molti anni prima insieme a sua madre. La ragazza che è presente in molte fotografie insieme a Vilden è proprio Leila, che era quindi nelle loro vite ancora prima che lei e Kemal nascessero. A questo punto, Nian capisce che la sua famiglia sta nascondendo un segreto che riguarda Leila da molto tempo. Determinata a scoprirlo, Nian affronta Vilden e Donder, i suoi genitori, i quali le confessano la verità. Infatti, Leila è sua zia, poiché è la sorella di Vilden. Dato che le due non hanno più nessun rapporto, lei non ha mai avuto modo di scoprirlo o di avere un rapporto con lei. Anticipazioni Endless Love, puntate turche. Leila venne lasciata sull'altare da Onder. Nian è sconvolta per la scoperta fatta e prova a capire di più sul motivo per cui la sua famiglia l'ha tenuta all'oscuro di un segreto così importante. I suoi genitori, però, le rivelano qualcosa di ancora più sorprendente, ossia che Leila era la promessa sposa di suo padre Onder. Quest'ultimo poi lasciò la donna sull'altare per mettersi proprio con Vilden, la donna che alla fine ha sposato e da cui è nata Nian. Mentre frequentava Leila, infatti, Onder aveva capito di essere innamorato di sua sorella. Nian va su tutte le furie e giudica molto duramente questo segreto del passato di Onder e Vilden. Il padre però prova a dirle che le hanno sempre taciuto la verità soltanto per proteggerla e che non sarebbe cambiato niente se lei avesse saputo o meno. Nian però si sente molto ferita e tutto questo la porta ad avvicinarsi alla zia Leila, che ora vuole conoscere meglio. Tutto questo potrebbe avere delle conseguenze anche sul suo rapporto con Kemal, da sempre un amico fidatissimo di Leila. Voi che cosa ne pensate? Vi aspettavate che Leila potesse essere parente di Nian e cosa succederà ora? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto metti mi piace. Iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.